Sei persone, due in carcere, altre quattro ai domiciliari sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, alla coltivazione di droghe e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in debite percezioni del reddito di cittadinanza. L'indagine iniziata nel 2020, coordinata dalla Procura di Benevento, ha scoperto come l'attività di Meretricio diventata fiorente con il tempo, veniva pubblicizzata mediante siti internet con annunci a sfondo sessuale. Erano due donne asiatiche, le due persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere le due menti dell'associazione a delinquere che decidevano il luogo in cui aprire le case di appuntamento. Organizzavano lo spostamento delle donne trattenendosi i loro documenti. Smistavano persino le richieste di prestazioni con una sorta di call center nel quartiere vasto di Napoli. gestivano numerose case di appuntamento sparse su tutto il territorio nazionale nelle province di Benevento, Avellino, Salerno, Sassari e Cosenza dirottando i clienti nelle sedi a loro più vicine concordando telefonicamente il tipo di prestazione e il loro costo. Nel corso dell'attività terminata nel maggio 2021 veniva sottoposta a sequestro documentazione anche i libri mastro da cui risultavano profitti per l'associazione riferiti a periodi relativamente brevi di diverse centinaia di migliaia di euro. Gli indagati traevano profitto dalla coltivazione di marijuana tanto che nel febbraio 2021 a Puglianello in provincia di Benevento venne individuato un opificio industriale all'interno del quale furono sequestrati 1350 piante in vegetazione e 54 kg di sostanza già essiccata.